Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, fa sempre parlare di sé, anche perché le storie che si creano durante le puntate appassionano il pubblico. Nel corso degli anni molti tronisti e dame sono diventati noti per aver trovato il loro amore proprio nel corso del programma Mediaset. Come in ogni programma televisivo, o quasi, anche a Uomini e Donne ci sono gli opinionisti, anche ex tronisti e dame ove. Ma purtroppo non sempre nei programmi televisivi si apprendono notizie positive. Un terribile dramma ha scosso in questi giorni il programma. Ecco che cosa è accaduto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Astro Glam ha da poco annunciato sui social che il cuore dei nostri gemelli non c'è più. Ella, assieme al suo compagno, aspettavano infatti due gemellini, ma a causa di un aborto la gravidanza è stata interrotta. Ella aveva annunciato la gravidanza il 30 gennaio. Esther Glam e il compagno Luca Baldacci adesso sperano di riprendersi presto da questa enorme dolore, cosa che non sarà assolutamente facile. Loro hanno già due figli, Gabriele e Brando, nati nel 2019 e 2021. Luca aveva pubblicato proprio il 30 gennaio la foto dell'ecografia che mostravano la gravidanza della donna.